E allora il 21 marzo inizierà ufficialmente la primavera anche se un assaggio della bella stagione lo stiamo già avendo e l'inizio della primavera porta in giardino una serie di attività come coltivare i bulbi, farciare il prato, preparare il terreno. Quindi diciamo che un giardino piacevole comincia sempre con una buona preparazione. Tu non hai il pollice? No, no. Io lasciamo perdere, a casa se ne occupa mio marito insieme insomma a persone che fanno questo mestiere. Oggi noi abbiamo chiamato proprio un garden designer che è Michele Valerio che ci accompagnerà a capire come possiamo curare al meglio il nostro giardino e poi faremo anche come dire un viaggio nei giardini del mondo. Buongiorno Michele e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Quindi sei di fronte a due casi disperati, te lo vogliamo subito dire. Recuperabili però eh? Speriamo, speriamo. Allora, molto bella questa prima immagine. Lo sapete che coltivare l'orto e il giardino costa fatica? Michele, sì. Lo sappiamo, sì, lo sappiamo. È così? È così, ci vuole tanta fatica ma anche... No, se fatto con passione anzi ritorna un beneficio enorme alla salute sicuramente ci si distrae ed è fondamentale oggi perché comunque il giardino a prescindere se sia primavera o autunno o inverno ha bisogno sempre delle dovute cure. Allora, da dove possiamo partire? Quali interventi? Allora, siamo in una fase transitoria quindi con l'approssimarsi della primavera bisogna dotarsi di un bel paio di guanti, delle forbici, un rastrello e bisogna solo pulire il giardino. Il giardino, ok. Va pulito, vanno rimosse le foglie secche, i rami secchi e quant'altro rimane dell'inverno. Ovviamente questo è il periodo anche giusto per potare le rose che è prima della stagione vegetativa e niente, rastrellare il prato, eliminare tutto quello che durante l'inverno... No, rastrellare anche chi ha il prato naturale nel giardino, quindi va rastrellato per evitare residui di muschio, erbacce che si sono formate durante l'inverno e questa è la prima operazione. Lo facciamo con quell'arnese, con il rastrello? Esatto, prendi appunti, segui... Non proprio quel... Da qui ci sono arrivato. Ce ne sono diversi. Beh, insomma, partiamo da questo, siamo proprio all'ABC. All'ABC. Allora, la seconda slide che abbiamo visto ci fa una differenza sostanziale. Questa slide vuole in qualche modo fare un distingo dagli alberi e gli arbusti. Prima, gli alberi, ovviamente, non tutti hanno un solo tronco, no? Come possiamo vedere, hanno diverse forme. Hanno la... si chiama globosa nel caso in cui si espande la chioma, oppure possono essere colonnari come il cipresso, possono essere palmizi, possono essere coniferi. Allora, l'albero ha poi delle crescite che variano a secondo del tipo di albero. Ci sono alberi che arrivano a un massimo di 6 o 7 metri, alberi che arrivano, si chiamano medi in questo caso, che partono dai 7 ai 20 metri circa. E poi ci sono gli alberi di prima grandezza che vanno da 20 anche a 40 metri. Questi sono tutti alberi che possono stare nel giardino, non so, di una villetta? Questa è una cosa importante, perché è l'errore da non commettere. Molte volte si è presi, si è abbagliati magari dall'albero che si vede in un vivaio e questo me lo porto a casa. E in questo caso l'errore è non conoscere quale sarà l'evolversi di quest'albero. Perché in uno spazio piuttosto contenuto, un cedro o un albero di prima grandezza, prima o poi, può creare dei problemi. Ho capito. Creare dei problemi e va tagliato, è la cosa più errata che si possa fare. Gli arbusti invece vanno fino ad un'altezza di 6 o 7 metri. Qui per arbusti cosa intendiamo? Intravedo una lavanda, correggimi se sbaglio. Esatto, ci sono arbusti piccoli, medi e grandi. Alcuni arbusti arriveranno anche a 6 o 7 metri d'altezza. Gli arbusti piccoli siamo intorno ai 3 metri, gli arbusti medi e quelli piccoli poi arriviamo all'incirca intorno a un metro. Ecco perché sapere l'evoluzione di una pianta, perché nel momento in cui si va a creare, questo lo chiamiamo zoning, formato da 4 o 5 piante, e sapere qual è il periodo di fioritura, il tipo di colorazione che avrà e quando poi, nella fase successiva, se rimane spoglio da qualche parte, è importante perché non tutte le piante sono sempre verdi. Ci sono foglia caduca, ci sono le annuali, ci sono le biennali, ci sono le perenni. È importante prendere, diciamo, degli appunti prima di andare a impiantare qualcosa. E qui subentra il garden designer a questo punto, è la figura competente. Questa è una figura che oggigiorno è indispensabile, dico, questo vale per il privato, vale anche per il pubblico, perché ovviamente nel costruire una strada bisogna sapere anche che tipo di albero andiamo a inserire. Andiamo con la prossima slide. Vediamo che, ecco, tu parlavi appunto, quindi quando si parlava di alberi... Questo è un triste argomento. Non a caso, venendo su adesso sul viale, ho notato che qualcosa del genere si è verificato anche dalle nostre parti. Purtroppo, molte volte si confonde cos'è la potatura con la capitozzatura. Qui vediamo degli esempi in alcune città, ma molte volte anche nelle nostre zone si verifica questo. Questi sono alberi, scusa Michele, capitozzati? Capitozzati. Entrambe le foto rappresentano... Capitozzati, quello è un modo veramente drastico, significa quasi eliminare completamente l'albero. Qui invece cosa accade? Che una volta capitozzato, l'albero avrà un rigetto che porterà ad avere una forma completamente sbagliata, come si vede in quella slide. Certo. Se vedi nella prima parte, no? C'è proprio il paragone vicino alla casa. Se lo fai con la capitozzatura, ti crescerà quel genere di albero. Se fatto in un modo corretto, avrai sempre lo stesso albero, però non sarà invadente come quello capitozzato, ovviamente. Quindi in qualche modo non dobbiamo improvvisarci... No, no, assolutissimamente, perché... Un albero in giardino, mi invento potatore, no? Ti anticipavo anche in una discussione che in Svizzera sono così fiscali che prima di assegnarti una motosega in mano devi avere perlomeno tre anni di pratica andato con dei giardinieri qualificati. Certo. Qui ci si improvvisa e purtroppo... E i risultati poi sono questi. Sono questi. Allora, prossima slide. Andiamo a cosa si funziona. Prossima slide. Oh, a me piacciono molto le graminacee. A me no. Purtroppo mi dispiace per chi è allergia. Però fortunatamente è solo una foto, Leo, quindi non corriamo il rischio che ti venga un attacco in diretta. Perché le graminacee? Io credo che... Veramente questo è partito dai giardini olandesi, dove lì hanno capito l'importanza di piante, se accostate nel modo giusto, danno degli effetti scenici straordinari. E hanno anche la caratteristica di non essere molto esigenti in fatto d'acqua, ovviamente. E si possono creare quelle che vediamo, è un corniolo, no? Sono delle piante che adesso non hanno le foglie. E hanno questi rami rossi. Che belli. Questa pianta è più apprezzata solo con i rami, anziché con le foglie. Penso. Ecco perché è importante proprio l'accostamento che dicevo, come questo è il mio lavoro anche che ho eseguito. Se passiamo all'altra... Sì, ok, andiamo alla prossima. Poi, ecco, no, volevo farti una domanda. Parlavamo appunto ad esempio di alcuni arbusti che non hanno bisogno di molta acqua. Anche alla luce dei cambiamenti climatici e del fatto che dobbiamo sparmiare acqua. Dobbiamo avere un occhio di riguardo anche a questo, scegliendo... È importante anche perché la funzione di un giardiniere qualificato o un garden designer deve capire dove contestualizzare quel tipo di pianta, l'esposizione, l'esigenza dell'acqua, se il posto può offrirgli l'acqua o no, ci sono delle valutazioni da fare. Ovviamente c'è chi è disposto anche alla raccolta dell'acqua e questa è una cosa che dobbiamo in qualche modo espandere perché la raccolta d'acqua è fondamentale. Quindi parli di cisterne fondamentalmente. Cisterne, qualsiasi cosa possa raccogliere acqua, è fondamentale. Facciamo quindi una carrellata ai vari giardini. Benissimo, i giardini noi chiamiamo qualsiasi spazio verde giardino. Ho portato delle slide per far capire un po' qual è la differenza sostanziale perché di giardini ne abbiamo tanti. Gli stili sono poi cresciuti con il tempo a seconda dell'esigenza. Però partiamo dal classico giardino all'italiana. Notate che è fatto prevalentemente di giochi geometrici dove sono piante di bosso e noi vediamo di tasso e gli allori. Questi erano i tre elementi fondamentali per creare. E qui ovviamente vediamo di che cosa erano capaci. Poi ci hanno lasciato in eredità dei giardini straordinari ed hanno una forma molto molto lineare. Si caratterizzano dalla pulizia visiva che hanno il giardino italiano ed è fondamentale il fatto che in tutti i giardini, nelle grosse corti, doveva esserci l'acqua attraverso delle cascate, attraverso ruscelli perché l'acqua è un elemento che caratterizzava il giardino italiano. Bene, allora Michele e Paola fermiamoci qualche istante per la pubblicità poi proseguiremo ancora con una carrellata di giardini e poi andremo anche sul pratico per vedere alcuni consigli che possono servire per questa stagione primaverile che sta avanzando. Restate con noi. E con il nostro garden designer Michele e Valerio continuiamo questa bella carrellata relativamente ai giardini. Abbiamo iniziato già un po' a capire alcuni piccoli segreti per poter mantenere magari il giardino di casa, per poterlo anche in qualche maniera rivitalizzare per la prossima primavera. Allora Michele, continuiamo. Abbiamo visto i giardini all'italiana bellissimi ma ce ne sono anche di altri tipi, giusto? Sicuramente. Allora facciamo una carrellata per far capire qual è la differenza della mano del garden designer quando viene fatta una richiesta di un giardino. A quel punto bisogna chiedere a chi commissiona le esigenze che ha, se hanno bambini, se hanno cani. Ci sono tante cose da sapere. Quando si va a realizzare? Questo è un giardino provenzale perché praticamente è molto simile al nostro Mediterraneo. Per quanto riguarda le temperature sono presso a poco simili. Diciamo che i francesi amano inserire anche elementi d'arredo nei giardini, pietre, sedie, porte, qualsiasi cosa loro trovano lo rendono più bello e lo riqualificano. Se andiamo avanti poi vediamo... Non molto pratico però perché magari ogni volta devi tirare dentro, mettere le sedie... Eh no, loro ci vivono in giardino. Eh loro ci vivono in giardino, non è un po' di meno, quindi ecco... Esatto. Vediamo l'inglese. In giardino inglese è quello che io amo particolarmente perché non ha forme definite. Anche se molto pulito però è lasciato molto alla libera crescita delle piante. Quindi c'è un lavoro dietro per capire quali saranno i colori da accostare, le forme, gli spazi. Ovviamente poi i risultati sono straordinari. Gli inglesi hanno una cura particolare per i giardini e si distinguono. Ovviamente hanno anche dalla parte loro un fattore ambientale che aiuta tanto. Sembra selvatico ma non lo è, diciamo è studiato anche questo. Infatti, infatti. Poi se andiamo ecco da dove nasce un po' anche la filosofia zen, no? Del giardino giapponese, ovviamente grossi sassi, acqua che deve essere percepita soltanto dall'ascolto ovviamente perché tutto, sembra che il tempo si fermi qui. Parola d'ordine relax direi. Sì, questo è ovviamente la filosofia del giardino giapponese. Vediamo il prossimo. Questo è il Mediterraneo, sono giardini che vediamo dalle nostre parti, no? Dove c'è una commistura di palmace che qualificano in un certo qual modo anche la nostra zona mediterranea. Prevalentemente rosa, rose, prato. Diciamo il nostro giardino è altrettanto bello, si presta diciamo ad avere attinto un po' dal giardino provenzale al giardino inglese. Un mix diciamo. Un mix. Sì, 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 bei colori. Anche questo? Qui tocchiamo quello che io definisco un piccolo problema nel senso che io l'ho chiamato giardino ibrido per un semplice motivo. Questo giardino ha, questi giardini ne sono due, hanno dell'erba sintetica. Ecco, erba sintetica sì, Michele, o erba sintetica no? No, erba sintetica no, perché lì dove è possibile, se si vuole pensare a una politica ambientale che porti ad avere più piante possibili, più alberi, ovviamente non è il forte. Però ci sono situazioni che purtroppo bisogna in qualche modo far sposare. Allora lì dove si va a mettere un prato finto, prima cosa assicurarsi che sia antitossico, che abbia tutte le caratteristiche che da adesso a dieci anni potrà essere smaltito, altrimenti altra fonte di inquinamento, perché non è altra che plastica sostanzialmente, però in questo caso inserirlo in un contesto dove ci sia molto di naturale. Il prato ha solo una funzione estetica in questo caso, ma quello che completa il giardino sono ovviamente le piante che vai a metterci intorno. Quindi abbiamo delle rose, in questo caso anche della lavanda, delle piante aromatiche. Esatto, questo è anche il periodo adatto per inserire sui terrazzi, balconi, qualsiasi cosa avete a disposizione per poter ospitare piante, adesso anche le aromatiche che sono belle e profumate da inserire in giardino. Quando facciamo lo spaghetto col pomodoro basilico, hop, è quello, è l'ideale, il basilico fresco, anche il rosmarino insomma, bellissimo. Vediamo, perché abbiamo finito la carrellata, no abbiamo ancora un tipo di giardino. Questo è un argomento che mi piace particolarmente perché l'idea di, in questo caso, sfruttare il verde anche in forma verticale è sicuramente un'idea innovativa. Oltre al verticale si pensa di poter mettere anche il verde sui terrazzi. Stefano Boeri, che poi è il noto architetto, lo ha inserito sull'ospedale di Milano su 750 metri quadri e oggigiorno si riscontrano i benefici che ne hanno sia i pazienti che gli operatori che lavorano in quella struttura. Ed è veramente una cosa straordinaria anche per la mitigazione dell'acqua che serve ovviamente anche ad alimentare questi spazi verdi. Bene, prossima slide. Vediamo cosa ci propone. Benissimo, questo è un altro argomento che si sta sviluppando, speriamo che si, anche da queste parti, si possa attuare qualcosa del genere. Cos'è l'ortoterapia? Viene praticata nei giardini degli ospedali, nelle case di riposo, nelle strutture che ci sono persone con portatrici di handicap. E creare quello spazio, anche quel momento dove ognuno di questi pazienti, chiamiamoli così, abbia la possibilità di coltivare nel suo piccolo attraverso anche, ci sono, chiamiamoli, orto in cassone. Allora, anche se non c'è lo spazio, un due metri per uno, se andiamo anche alla prossima slide, questo è quello che sta avvenendo in città. Praticamente si affidano degli spazi verdi a dei cittadini che possono usufruire di 100 metri quadri o giù di lì e riescono ad avere il fabbisogno per diverse famiglie, perché oltre al loro consumo, hanno la possibilità di poter vendere in un'economia circolare tutto quello che sviluppano. Ed è veramente importante anche portare, ovviamente diventano anche posti da visitare per i ragazzi, per le scolaresche, perché poi contestualizzano anche la Piarion, perché ci sono i pollini. E per gli anziani è una cosa straordinaria. È un po' casano. Sì, chi in questo periodo parte e che va a curare il proprio orticello, c'è chi non ha la possibilità, perché privarlo con poco spazio si può fare. Molto bello, molto bella anche questa notizia, l'ortoterapia agli orti urbani. Quindi, Michele, avere un giardino, avere anche un piccolo spazio, avere anche due o tre piante a casa fa la differenza. Allora, è provato scientificamente che alla vista il verde è ovviamente delle piante, che dà una situazione di benessere. A me piace molto questa foto, dove qui mi dà l'idea di chi ostinatamente vuol far crescere qualcosa. Allora, ha trovato, non so, si è inventato secchi, ci sono dei cavidotti dove toglie da una parte e mette sull'altra, ma questo significa, se a qualcuno piace il verde, lo si inventa lo spazio. Certo, trova il modo per coltivarlo. Trova il modo, con piccole cose, ha reso questa facciata molto più bella, immaginiamola senza piante. Certo. L'importanza degli alberi in città. Si vede la differenza dei gradi che poi si sviluppano con gli alberi e senza gli alberi. Vedete la differenza straordinaria che c'è, ma la prima cosa che colpisce, secondo me, è il fatto visivo, no? Sì, certo. Di non vedere solo palazzi, asfalto, e vedere questo movimento di tronchi con il verde. Ecco perché è fondamentale impiantare alberi, ma seguirli. Sì, questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Non so se la regia, non voglio mettervi in crisi, però abbiamo una foto che ci è stata inviata da una telespettatrice, un giardino in ripresa. Vediamo se riusciamo a recuperarla, tant'è che Leonardo ha detto poi la facciamo vedere al nostro esperto. Vi diamo qualche secondo per poterla recuperare, anche perché abbiamo dei telespettatori che sono molto... A volte appunto ci inviano proprio delle immagini in qualche modo green e questa mattina è venuto fuori che avremmo parlato di giardini e quindi ti è venuta un po' voglia di piantare qualcosa? Assolutamente sì. No, ma ero diciamo molto incuriosito, dato di fatto ovviamente il fatto degli alberi in città, soprattutto d'estate, che vanno a mitigare poi la temperatura, soprattutto d'estate, quando sappiamo tutti che le temperature sono estremamente elevate. E la componente della manutenzione è fondamentale, come abbiamo visto all'inizio, soprattutto il non improvvisarsi. Ecco, mi ha molto colpito questo passaggio qui che in qualche maniera ci restituisce anche il senso purtroppo tante volte della sciatteria, passatemi questo termine, che alberga un po' quando ci si deve andare a manutenere il verde, che è importante, è importantissimo. L'abbiamo visto anche dall'ultima slide. Questa non è l'immagine, però mostriamola lo stesso a Michele. Questa è Villa Melsi a Bellagio, Lago di Como, un giardino che probabilmente non ha bisogno di presentazioni né di cure, però ce n'era un'altra particolare, in verticale con una palma. Vediamo se riusciamo a recuperarla, se ce l'ha anche Leonardo, perché vogliamo proprio chiudere con questa. Ok, la regia la dovrebbe avere sull'account. Poi magari se arriveranno altre foto, Michele, ti strappiamo già una promessa a tornare a trovarci. Vediamo se l'abbiamo giusto. Eccola qui, questa telespettatrice ci ha inviato questa foto scrivendo un giardino in ripresa, vero Leonardo? Come lo vedi? In ripresa? Non so se la foto è attuale, non so se l'ha scattata questa mattina o il giorno scorso. Presumo di sì, perché ovviamente l'albero non avendo foglie, può darsi che sia nella prima parte della stagione, suppongo che sia stata fatta di recente. Sulle palmace nulla da dire, perché la funzione è quella, si vede che stanno bene. Ovviamente a me poi non dispiace molto, c'è questa ossessione di voler tagliare assolutamente l'erba, quando in alcune circostanze è fondamentale per l'impollina natura. Sì, è chiaro, ho capito. Quindi a volte rientra nella nostra visione che se è rasato è bello. Se ci sono queste erbacce dove magari ci sono fiori, papaveri o cos'altro, no, questo non va bene. Invece molte volte va apprezzato in alcune città molti spazi verdi, adesso sono convertiti con prati naturali. Prati naturali dove impiantano essenze che crescono normalmente e danno un effetto scenico straordinario. Bene, quindi rimandata la nostra telespettatrice ad un consulto più approfondito magari. Una foto più dettagliata. Magari possiamo anche diciamo aiutarla di più. Noi però, Paola, siamo giunti al termine del nostro spazio e dobbiamo ringraziare Michele e Valerio per averci aiutato e aver aiutato anche i nostri amici in questa mattinata a poche ore dalla primavera, insomma, a capirne un po' di più. Quindi mettiamo l'ultima slide e non ce la facciamo. Ce l'abbiamo? Quale? Aspetta, vediamo un po'. Quella dove c'è un bel augurio. Ah, ecco, vedi, ne avevamo una. Ti abbiamo... Se c'è l'ultima. Sì, adesso la recuperiamo subitissimo. Eccola qua. Ah, eccolo qui. Che bella, vediamola qui. Ce l'abbiamo. Quindi coltivare un giardino vuol dire credere nel domani. E praticamente riassume cosa significa la riduzione del consumo energetico, la migliore qualità dell'aria, il controllo del flusso delle acque. Sono tanti gli aspetti. Positivi. Assolutamente. Speriamo e crediamo in verde. Assolutamente. Grazie, grazie al nostro garden designer Michela Valeria per essere stato con noi. Grazie mille. Noi restituiamo la linea alla regia, ci fermiamo qualche istante e poi di nuovo insieme parleremo di sonno. State con noi.